Sul mondo della scuola io considero sconcertante la ripetizione di litanie che non hanno nessun rapporto con il livello dell'epidemia. Non si può ascoltare un ministro della pubblica istruzione che continua a ripetere a pappagallo Noi dobbiamo tenere aperto che cosa? Quando hai realtà scolastiche nelle quali registri centinaia di contagi. Ma come si fa a ripetere frasi fatte? Come sapete abbiamo preso per primi delle decisioni relative alla scuola. Mi hanno messo in croce decisioni gravissime. Adesso stanno decidendo tutti quanti di prendere queste misure. Ovviamente. Per ultimo il collega Emiliano ma è evidente quando hai dati di contagio che sono drammatici. La ministra ci dice ma se non vanno a scuola vanno in mezzo alle strade. Non si possono ascoltare queste cose. In mezzo alle strade i ragazzi c'erano a giugno, luglio, agosto, settembre. Non c'era questa esplosione di contagio. Come bisogna dirlo a questa cosa? La cosa più grave come vettori di contagio sono proprio i bambini più piccoli come abbiamo verificato per una indagine epidemiologica che abbiamo fatto qui in Campania relativa al mondo della scuola perché i bambini più piccoli e la fascia 0-5 anni sono asintomatici ma sono vettori terribilmente efficaci di contagio nelle famiglie. 0-5 anni. E continuiamo a perdere tempo.